Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Oggi è martedì 1 luglio, vediamo come titolano i principali quotidiani locali e nazionali. Iniziamo dal quotidiano del Molise che titola con manager Asrem scelta strategica, seduta a fiume per la giunta regionale chiamata a nominare il prossimo DG. Il più quotato resta Deni Aldo Procaccini ma già appende una possibile impugnativa al tar degli esclusi. Al momento di andare in stampa la giunta era ancora in riunione per decidere il prossimo manager che dovrà sostituire Percopo. E poi ancora a campo basso criminalità organizzata anche sul web un flagello ad Iconsum stila un vademecum per non cadere in trappola. Termoli colpo grosso dei ladri nell'ufficio parrocchiale di Santimoteo, bottino di circa 10.000 euro che dovevano servire per attività sociali. Ieri in quarta commissione sanità Sorbo chiede le dimissioni di Rosato e il sindaco di Ivenafro scende in campo a tutela del Santissimo Rosario. E ancora provincia, presidente e consiglio devono essere eletti entro settembre prossimo da Roma direttive precise e non andare oltre. Le votazioni per eleggere presidente e componenti di questi due organi dovranno svolgersi necessariamente entro il 30 settembre. Mazzuto pronto a fare le valigie. E paesernia incognita parcheggi alla vigilia della visita del Papa bisogna sloggiare prima necessario per transennare il percorso. Anche per il capoluogo i preparativi sono frenetici come per Campobasso. Il sindaco ha chiesto qualche piccolo sacrificio anticipato agli automobilisti liberate le soste in tempo. E ancora associazioni terzo spazio in 15 sono a rischio sfratto. Il comune non paga l'affitto. Le 15 associazioni del centro terzo spazio di via Mazzini ricevono l'avviso di sfratto esecutivo. Già da due anni la situazione del centro inaugurato nel 2004 dal sindaco Peppe di Fabio si è incrinata. Urge una soluzione. E poi Campobasso elezioni comunali depositato al ricorso del Movimento 5 Stelle obiettivo riconteggio. I pentastellati formalizzano la richiesta del riconteggio delle schede elettorali al TAR. Ballottaggio o meno occorre vederci chiaro. Campobasso trasporto urbano stato di agitazione alla SEAC indetto dalla Faisa Cisal Molise. E poi Mancini protesta legittima ai dipendenti di funivie Molise S.p.A. A secco di stipendi l'avvocato campobassano ha rimesso l'incarico. E poi lo sport serie D di Gennaro e Todino. A breve le firme in rosso-blu. Ancora Olimpia Agnonese ci sarà un rinforzo per reparto. Controlliamo anche le pagine interne. Funivie Molise protestano i lavoratori e Mancini lascia. L'amministratore prende atto della situazione e rimette l'incarico. E ancora precari dell'Agenzia regionale di protezione civile. Riaprire la concertazione confidiamo nel buon senso degli interlocutori istituzionali e delle parti in causa in questa vicenda. Con una nota inviata al prefetto, il coordinamento chiede una nuova convocazione del tavolo di confronto. E ancora l'italiano per integrarsi, la lingua come mezzo per abbattere le barriere. Da Franco Sant'Agata un esempio civico e morale, il cordoglio di Aldo Patriciello. E ancora SREMA la Giunta fa le ore piccole, tira fino a notte fonda per scegliere il prossimo manager. In Pol Procaccini, ora dopo ora salgono le quotazioni dell'ex direttore degli ospedali riuniti. Ma i non idonei meditano il ricorso. E ancora Sanità, Sorbo sbotta in commissione, Rosato deve rassegnare le dimissioni. Iniziato l'iter per il via libera ai piani operativi, si continua oggi alle 9.30. E poi gli sfratti, i 5 stelle presentano la moratoria, la casa è un diritto sacrosanto. Pari opportunità Angela Crolla, presidente della commissione regionale, eletta a maggioranza ieri. Passiamo adesso a primo piano Molise, che titola con il Vaticano Francesco, sarà in Molise. Ufficializzato il programma, Bergoglio terrà 5 discorsi, momenti più significativi con ammalati, poveri e detenuti. Il pontificio è stanco, ma non rinuncia alla visita di sabato da un anno sul soglio di Pietro, mai un giorno di vacanza. Sul bollettino del 30 giugno la Santa Sede ha ufficializzato il programma della visita del Papa in Molise. Un sospiro di sollievo dopo l'indisposizione fisica che ha costretto il pontificio a rinunciare venerdì scorso al viaggio tra le corsie del Policlinico Gemelli di Roma. In realtà Francesco sta bene, ma è un po' affaticato per gli impegni. In un anno 12.000 incontri e nemmeno un giorno di vacanza. Tra Campobasso, Castelpetroso e Isernia, il Santo Padre terrà 5 discorsi e saluterà ammalati, poveri e detenuti. E ancora Asrem Gaetano Fuiano, nuovo commissario da Palazzo Vitale, nominato ieri sera dal governo Frattura. Il professionista in pensione di Torre Maggiore resterà in carica a titolo gratuito fino a settembre. La nomina è arrivata ieri sera. Gaetano Fuiano è il nuovo commissario dell'Asrem, scelto dall'Aggiunta Frattura. L'ex direttore amministrativo degli ospedali riuniti di Foggia resterà in carica per tre mesi a titolo gratuito. E ancora Post Sisma, precari fuori dall'Agenzia regionale di protezione civile sul piede di guerra, proroga di quattro mesi solo per cento tecnici. Gli esclusi minacciano proteste eclatanti. E ancora Campobasso, giunta 5, summit di maggioranza per trovare la quadra. I partiti minori chiedono un posto nell'esecutivo. E ancora i grillini, impugnano al Tarre la vittoria di Antonio Battista, al ricorso del Movimento 5 Stelle punta al ballottaggio. E poi Isernia, maxi multa al venditore bengalese di rose, 5 mila euro da pagare subito. A Boiano, contratti Cococo e in municipio, 14 indagati tra politici e funzionari. Manuela, vigilante eletta presidente del Consiglio, il debutto dell'assise civica a Termoli, centro-sinistra compatto nella votazione. Giuditta disattende le indicazioni dell'IDV. Il centro-sinistra legge al primo scrutinio Manuela, vigilante presidente del Consiglio Comunale. Si sfila e disattende le indicazioni dell'IDV, Antonio Giuditta, che vota insieme alla maggioranza per senso di responsabilità. Una notizia dall'Abruzzo, da Vasto, estate in città e in municipio presentato il cartellone. E poi lo sport serie di Termoli all'assise civica. L'appello della curva guida, aiutate la società e i tifosi per la città, il calcio è importante. Mercato Campobasso nel Merino, Minichiello e Cherubini, Todino verso la firma. E controlliamo anche le pagine interne. Post-sisma esplode la rabbia dei tecnici esclusi. Il coordinamento chiede di riaprire le trattative prorogate intanto ai contratti di febbraio. Annunciate azioni di protesta clamorose, la Wiltux denuncia nessuna soluzione per i lavoratori a progetto di Molise Dati. Frattura batta un colpo. Sfratti si allarga il fronte della moratoria in campo di Fondazione 5 Stelle. Oltre 150 le famiglie coinvolte a appello al governatore sospende i provvedimenti. Se ne è andato Franco Sant'Agata, il prof gentile che mancherà a tutti, è stato presidente di Conf Cooperative e creatore dell'Accademia Nuccio Fiorda. Il cordoglio dell'eurodeputato Patriciello, uomo e professionista, esemplare. E ancora migranti, numeri, record in tutto il paese, lanza disegna la mappa e Molise già 400 e altre centinaia in arrivo. Asrem, il nuovo capo è Gaetano Fuiano, il manager pugliese nominato commissario dalla giunta Frattura. Intanto in consiglio sono state avviate le audizioni sul piano operativo, stamane tocca a Rosato e ai comitati. Funi vie, situazione critica, i pignoramenti piovono, l'amministratore Mancini risponde ai lavoratori, capisco le loro ragioni. Pari opportunità, Angela Crolla, presidente della commissione. E ancora a sinistra, rifondazione rinnova il vertice, Arcolese, nuovo segretario. Passiamo adesso alla gazzetta del Molise che titola con Non c'è dubbio, siamo i migliori a fare i nostri. E poi ancora l'Oscar del giorno ai comitati Pro Sanità, il tapiro ad Angela Fusco Perrella. Controlliamo anche le pagine interne, una macchia disonorevole sulla trasparenza degli amministratori, atteggiamenti scopertamente strumentali da rendersi coattivi a una delle pagine della cementificazione del territorio campobassano. Parliamo della lottizzazione del parco dei Pini, il comune si è tirato fuori lasciando campo libero al commissario ad acta. E ancora lavoro, la regione rifletta, il guerriero sanitario chiama l'attenzione della giunta sul problema dopo la marcia sindacale. L'aggiunta dei fatti loro, il Molise rischia di sparire come regione autonoma, male esecutivo e a sé stante. E ancora l'intervento, frattura e rosato si dimettano. E adesso guardiamo insieme le home page del quotidiano online, informa Molise. Tra le notizie in primo piano Angela Crolla, la presidenza della commissione parità e pari opportunità. Angela Crolla, imprenditrice vena frana, è stata eletta nel pomeriggio di oggi di 30 giugno, presidente della commissione regionale per la parità e le pari opportunità. E ancora incredibile successo per la manifestazione sulle ali della solidarietà. E ancora dal Vaticano, il bollettino ufficiale della visita in Molise, previsti cinque interventi del Papa. Associazione Click promuove un concorso fotografico, una foto per Francesco. E ancora droga e alcol, la piaga dell'abuso si espande in Molise, Foscoperele e Lattanzio presentano un ordine del giorno. Passiamo adesso alla stampa nazionale, leggiamo la Repubblica, riforma in due mesi, così Renzi vuole cambiare la giustizia. Carriere e prescrizioni, falso in bilancio, i 12 punti del governo. Intercettazioni, decidiamo con i giornalisti cosa pubblicare. La rivoluzione virtuale, poi ancora in retroscena, si ferma l'Italicum rinviato a ottobre. E poi la strage dei migranti morti senza aria, 30 bloccati nella stiva dai compagni e l'Unione Europea, un commissario ad hoc. Trovati i corpi dei ragazzi rapiti, Israele sarà la fine di Hamas. E poi ancora l'idea del vescovo anti-boss, basta padrini nei battesimi, spesso strumentalizzati dall'andrangheta. E ancora donne, qualcosa è cambiato, ecco i conti delle quote rosa. CdA, Ministeri, Esercito Europa e sempre più potere. Passiamo adesso alla stampa che titola con uccisi, i tre ragazzi sequestrati Israele sarà la fine di Hamas, ammazzati poco dopo il rapimento, colpiremo i terroristi senza pietà. E poi giustizia, Renzi lancia la riforma in 12 punti, intercettazioni, nessuno stop, ma è giusta la pubblicazione, il premier al processo civile entro un anno. E ancora nel canale di Sicilia, 30 migranti morti asfissiati, l'Europa pronti ad aiutarvi. E il caso, i veleni siriani arrivano a gioia tauro, domani l'approdo al porto fra le proteste, un lavoro lungo sei mesi che nulla toccherà a terra. Passiamo adesso al tempo, Mare Nostrum, morti vostri, 60 mila immigrati arrivati nel 2014, ieri altri 30 morti e l'Europa se ne frega. L'intervento, la tassa di soggiorno e poi il video di Repubblica, Berlusconi spiato pure ai servizi sociali, rivolta a dei negozianti e arriva il posto più spese per i cittadini. Iara, la verità, ora si cerca nel furgone, Bossetti resta in carcere. E poi l'inchiesta del tempo dai Wukun Prai trans Roma in ostaggio. Passiamo adesso al messaggero di Roma, giustizia, la riforma di Renzi, piano in 12 punti, processo civile in un anno, responsabilità dei giudici, stop alle correnti. Intercettazioni, paletti alla privacy, il premier frena sui tempi per blindare il nuovo Senato. E ancora uccisi, i tre ragazzi rapiti, Antisraele, la fine di Hamas, orrore a Eber, una nuova guerra alle porte. Mare Nostrum, immigrati Italia, usi il semestre per la svolta. E ancora sfissiati sul barcone, sul barcone strage il governo, l'Europa non scappi, a Pozzallo niente tombe per i 30 migranti, già anche reagiremo. L'intervista a Francesco, la Roma del Papa, una metropoli dove combattere il degrado umano. E poi scatta il banco, il banco matto obbligatorio, ma si adegua soltanto il 20%. Passiamo adesso all'informazione economica. Leggiamo il Sole 24 ore, la flessibilità c'è, è sbagliato parlare di nuove regole, Padoan, se il PIL rallenta inevitabile impatto sui conti. Il ministro dell'economia presenta le priorità italiane del semestre europeo. Italia e Europa non dovrà essere un semestre di routine. E ancora, Istat rischio di un altro calo del PIL, la giugno inflazione ai minimi più 0,3%, giù i prezzi degli alimentari a meno 0,6%. Allarme nella nota mensile, nel secondo trimestre la previsione stimata tra il meno 0,1% e il più 0,3%. La culla oppiacea della deflazione, il commento di Fabrizio Galimberti. Ancora, il piano per la giustizia, processo civile in un anno, cambia il falso in bilancio. Renzi illustra la riforma, i testi a settembre. Una rivoluzione solo annunciata e poi via il bicameralismo perfetto, tiene il patto PD, Forza Italia, Lega, ieri i primi voti in commissione al Senato. Immigrazione, la marina soccorre un barcone con a bordo 30 cadaveri. L'Unione Europea pensa ad un commissario ad hoc. Passiamo adesso allo sport. Leggiamo la gazzetta dello sport Pogba e Osile. L'Europa c'è, Francia e Germania si sfideranno nei quarti al Maracanà. Un gol del baby asso della Juve lancia la Francia contro la Nigeria. 2-0 finale. Anche i tedeschi soffrono con l'Algeria e passano per 2-1 soltanto nei supplementari con un tacco di Scherl e un sinistro dell'ex Real. E poi Suarez finalmente ammette sì, ho morso Chiellini la svolta mentre dal Kosovo gli offrono un posto per giocare subito l'uruguaiano su Twitter. Mi pento e ti chiedo scusa, non accadrà più. L'Azzurro ho già dimenticato, spero che ti riducano la squalifica. E poi le partite di oggi, Argentina-Svizzera, Sabella in corona, Messi con lui, siamo da titolo. E poi Federcalcio, Tavecchio in pole position, Barbara Meglio Ungiovane, il numero uno dei direttanti favorito per la presidenza. E questo era il nostro ultimo quotidiano sportivo, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per aver scelto la rassegna stampa di Molise TV e buona giornata. Il meteo è offerto da esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni del tempo per martedì 1 luglio. La pressione, nuovo rinforzo, ma residui e correnti settentrionali rinnovano nubi sparse al mattino, tra serena ovunque tra pomeriggio e sera. Venti fino a moderati settentrionali con mari da poco mossi a mossi. Temperature in calo nelle minime, in aumento le massime. Vediamole nel dettaglio. Campobasso, minima 14, massima 26 gradi. Isernia, minima 13, massima 27 gradi. Termoli, minima 20, massima 27 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. in Italia e all'estero.